Sciacca vincitrice di Top Cost 2016? Sì, ma la realtà è ben diversa. Torna a denunciare il degrado e lo stato di abbandono del ritorale Saccenze il consigliere Mario Turturici. Lo fa attraverso un'interrogazione rivolta al sindaco e all'amministrazione comunale. Le immagini che state vedendo si riferiscono alle spiagge e agli accessi al mare di località San Giorgio e sono state scattate dai residenti esasperati da tempo. Sono problemi ben noti che in passato si è cercato di affrontare con interventi tampone, ma quest'anno la situazione, scrive Mario Turturici, sembra davvero assai più critica, tenuto conto che sono state ridotte al minimo le manutenzioni e la scerbatura non viene effettuata da diversi anni. Turturici lamenta inoltre che non si ha più notizie del finanziamento della regione siciliana, che avrebbe consentito di contrastare il fenomeno dell'erosione delle coste di riqualificazione dell'intera zona. Ma al di là del finanziamento, quello che i cittadini evidenziano, continua Turturici nella sua nota, è la mancanza del più banale intervento di manutenzione in una località assai frequentata, dove insistono diverse strutture turistiche. Il consigliere va anche oltre toccando altre località balneari. La situazione è critica anche a San Marco, dove i cittadini sono costretti ad un'infinita corrispondenza con le istituzioni. Edentica situazione possiamo riscontrare anche nella spiaggia di Sovareto e di altre spiagge di Sciacca. Insomma, secondo Mario Turturici, la vittoria della città al concorso nazionale Top Cost è decisamente immeritata e sollecita, come altre volte in passato, l'amministrazione comunale di intervenire con la massima urgenza, attingendo in misura maggiore dai fondi della tassa di soggiorno per dare un maggiore decoro alle spiagge di Sciacca.